Il verdetto del giudice dell'udienza preliminare nel processo Nuova Linea è stato rimandato al 4 gennaio a seguito di un'intensa battaglia tra l'ufficio di procure e le difese delle 19 persone coinvolte. Tra gli scenari d'accusa emergono il presunto racket del pesce spada con forniture imposte ai ristoratori e tangenti ai costruttori per opere pubbliche. Il processo, lo ricordiamo, è risultato da un'operazione congiunta del pull antimafia e del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria e ha scosso le gerarchie delle endrine di Discilla coinvolgendo capi, fiancheggiatori e sostenitori esterni delle cosche leader sul territorio. Al centro delle indagini è l'asse Nasone e Gaietti evidenziando un'oppressione mafiosa sulla costa viola. Le accuse comprendono le imposizioni del pizzo ai commercianti, il presunto racket del pesce spada, le tangenti ai costruttori ed imprenditori che si sono aggiudicati a palti pubblici e un'infiltrazione nella vita politica del comune. Gli imputati sono accusati di associazioni di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni, rivelazioni segreti d'ufficio, detenzioni d'armi, tentato omicidio e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso della requisitoria sono emersi dettagli su soprusi subiti da imprenditori, commercianti e ristoratori da parte degli esponenti del clan, in un processo che coinvolge anche il Ministero degli Interni, il Comune di Scille e la Regione Calabria. Figura chiave nel processo è Giuseppe Fulco, ritenuto aver assunto un ruolo direttivo di spicco nei nasone Gaietti dopo il suo rilascio nel novembre del 2018, segnando una nuova linea criminale a Scilla.